Il leader del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo, ha visitato a Rò il Salone del Mobile e al microfono della nostra inviata Laura Cervellione ha rilanciato il reddito di cittadinanza. Lo sentiamo. Siamo tutti piccoli imprenditori. Figurati se noi non abbiamo come nostro programma la defiscalizzazione, togliere l'ira, la protezione del Made in Italy, vero, perché un sacco anche di imprenditori prendono i finanziamenti e poi vanno a produrre all'estero. Questo noi vogliamo evitarlo. Quindi non avremo la totalità dei piccoli imprenditori a vantaggio nostro, che saranno i nostri votanti, perché noi vogliamo le cose giuste. E tutelare questo tipo di lavoro? Assolutamente sì. È la base, la colonna vertebrale della nostra economia. E siamo schiacciati da un sistema fiscale che non dipende più da noi, ma dall'Europa, dove c'è dentro dei parametri che ti strangolano. Quindi usciamo di lì e dobbiamo prepararci che tanti lavori scompariranno, quindi milioni di persone saranno senza lavoro, nasceranno lavori nuovi, invenzioni di lavori nuovi, ecco dal designer all'ingegnere, come riprogettare le cose. Sono tutti problemi che ci dobbiamo porre adesso, perché se no non andiamo da nessuna parte. E siamo stretti lì, quindi avremo migliaia di persone da aiutare con un reddito di cittadinanza che cambierà il rapporto di lavoro. Il lavoratore che tu metti sulla strada perché perde il lavoro può avere un'assistenza in cerca di un altro lavoro con il reddito di cittadinanza. Non lo lasci borderline, non diventa preda della mafia o delle società camorristiche, non diventa un costo per lo Stato, perché un disoccupato costa 10.000 euro l'anno. Allora con un reddito di 780 euro noi riusciamo a farlo sopravvivere in cambio di tre lavori in tre anni. E nel mentre si fa un circuito accompagnato dal comune per trovare un lavoro più consono. Reddito e lavoro, due concetti da tenere separati. La gente vuole il lavoro o vuole il reddito. Gli hanno convinti che ci vuole il lavoro. No, ci vuole il reddito. Poi il lavoro viene in base alle tue capacità, e sei tu che selezioni il tuo lavoro. Non è il mercato. Mettiamo al centro le persone invece che delle disfunzioni mentali di circuiti economici, che non funzionano più. Questo è il movimento. Cosa ti posso dire l'altro? Adesso siamo qua, ci hanno un po' portato in giro, mi hanno fatto sedere in qualche poltrona, sono caduto per terra in una, ho dato una ginocchiata in un altro tavolino. Cioè io sono ammaccato, però chiederò al mio avvocato se posso prendere qualche rimborso. Però questa è una realtà che c'è. Quindi il design non fa poltrone comode, come mai hai scelto di sedersi per terra? Il design fa poltrone comode, ma in casa dei designer c'hanno quelle vecchie rotte, c'hanno quelle comodissime. No, sono bellissime, alcune sono opere d'arte. Devi anche vedere una roba come un'opera d'arte. Poi è chiaro che se la progettazione è fatta per un mercato estero diventa, forse c'è un principio che bisogna tenere presente che noi siamo i più grandi progettisti di immobili. Genova ha fatto il barocco genovese che è una meraviglia da centinaia di anni che progettiamo i mobili più belli del mondo. Quindi bisogna tenere quella, il gusto nostro, perché se arrivano chiaro i russi, gli arabi, i cinesi, le cose, il cinese vuole il muore, l'arabo vuole il muore. Fate vedere un divano che ci sta in 175 seduti che è lungo tra i 200 metri. Cioè, ma scusi, ma metà va fuori sul terrazzo. Ma chi ce l'ha al terrazzo? Se sono a piano terra lo mette fuori così la gente si siede mentre aspetta l'autobus. Attenzione a non strizzare troppo l'occhio agli sceicchi. E non sopravvivere. Grazie a... E meno male che c'è l'expo, l'esport.